Oggi andremo a vedere un nuovo gioco, Totally Reliable Delivery Service, sistema a servizio di consegna totalmente affidabile, un gioco cooperativo dove controlleremo un omino permettendo con due tasti separati di alzare e abbassare il braccio sinistro e braccio destro, stringere o meno il pugno di ogni braccio ed è un sistema di gioco molto divertente e molto cooperativo e spero che questa prima grande barracconata della storia di Indie Gameplay Ita vi diverta perché quello che andremo a vedere a breve sarà la registrazione di prova prima della live svoltasi sul canale di Gameplay Channel, infatti gli ospiti di questo video saranno appunto lui, Gameplay Channel e Mr. Delric, spero tanto che questo video possa strapparvi più di un sorriso, più di una risata, buon divertimento eccoci io cado aiuto, chi mi ha preso? aiuto aiuto come vai a prendere, Indie? oddio ha fatto un suono non lo so, ha fatto un suono stranissimo vogliamo abbattere il tempo record di questa missione che ci abbiamo messo 29 secondi noi altri ma è da portare qua davanti? guardate che è qua l'obiettivo eh lo so, ma qua possiamo abbattere il record di questo aspetta, ora fammi provare, prova cazzo ah, ma come corre, oddio aiuto ah, ma come l'ha preso, ma perché non corre, vai grande, perfetto scusa, voglio fare una piova caduto ti prendo ma poi ci sono anche quei veicoli con io ho fatto una inelicotta non sei partito col col tombino ah, col tombino io ti seguo ma non abbiamo un camioncino ah, va bene ma quindi si fanno le cose così si prendono le missioni da lì, a caso ah, è partito il camioncino ok, dobbiamo andare a 180 metri o lo portiamo a mano uno sta dietro e tiene il pacco i due salgono davanti aspetta aiuto chi guida? come si guida sto corso? ma io posso tenere anche il pacco ma chi è che tiene me? aspetta dai colletto dai colletto aiuto è un casino quindi non puoi guidare te? aspetta, posso tenermi? vai aspetta che salgo ok oddio che fai? che fai? che fai? che fai? tenetevi tenetevi ok siamo arrivati più o meno siamo arrivati dai scarica oddio oddio come è brutta aiuto vai 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 di qua ok non mi è passare eeeh andiamo via tutti per mano aia cosa è esploso? cosa è esploso? è esploso contro un edificio vabbè andiamo aspetta eh eccomi aspetta bisogna tenere teniamoci per mano appassionatamente che figata no ma guida tranquille andiamo a prendere la missione a prendere qua la missione no cazzo ma davanti qui non si può e poi ah ce ne sono anche qua ma qua i veicoli ce ne sono tanti ah qua da solo i veicoli ok guarda là sopra anche i buggy lì a destra ma sta facendo manovra ci stiamo tenendo mi molli 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 ma oddio lo stiamo facendo la mucchiata ma va che mi stai tenendo tu eh io non sto più facendo niente ah puoi dare il pugno così ok la testa in giù io non si stacca più ma esci da qua esci da qua aiuto il mio non esce più si è buggato nel veicolo non esce più oh ce l'ha fatta ma andiamo a prenderla ma dove bisogna andare e dove c'è il segnalino rosso sulla mappa ah ok ha detto che bisognava prendere sto mezzo ma chi ma che ne so alla missione diceva da prendere ah no ma questo è il nostro garage sembra quello dei pompatò dai andiamo ma lassù dobbiamo andare in cima alle scale no? vedi dietro di noi sul segnalino rosso ah ok ci stiamo tenendo per mano non credo che sia non è una buona idea ma comunque ci ne trovi aiuto guido piano aiuto scusate voi di dietro ci stiamo abbracciando aspetta aspetta dobbiamo portare indietro il mezzo dobbiamo portare indietro il mezzo aia arrivo aia vai bg aspetta dobbiamo prendere il pacco ma perché sei attaccato oddio mi sei pagato con la macchina aiuto 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 aspetta aspetta non toccare niente aspetta ci siamo tutti? si prova sono convinto ti tengo per le orecchie aspetta salta 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 che deve risalire salta salta no salta sul puntone aia aia ok si sa che quell'integrità di quel pacco non è ottima ok no ma vola via sto mino ma è ingestibile molla molla i grilletti che viene un'automagna ok allora aspetta ok preso il pacco con calma ma è quando salta che è ingestibile tira su sto coso ok oh aia 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 cos'è è passato un treno cos'è aiuto e l'integrità è l'81% aia son morto no molla molla ma dov'è l'integrità lo vedi sul pacco credo no sopra non vedi in alto a sinistra in alto a sinistra delivery ok io l'ho messo su ok adesso ci dobbiamo tenere teniamoci ok possiamo andare come i bambini no 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 aiuto scusate scusate non so scusa aiuto ok ok vai che se andavamo a piedi non era meglio si mi sa di si facevamo prima ma si è bloccato clip dal ok andiamo ci siamo ci siamo ok alziamo ok alziamo no sono caduto in acqua ok vai c'è la aia mi sono chiuso la testa condizione al 71% ok ma io so sparito l'ho pescato ma puoi pescare ah ma c'è anche il no vabbè c'è il motoscafo c'è il motoscafo oh 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 dobbiamo portare questo dall'altra parte del un pesce mi date una mano perché mi sa che pesa aspetta quale ah quello ah non il pesce quindi no io pensavo il pesce è morto aspettate guardate dove dobbiamo portarlo perché è la parte del fiume bisogna guidare il motoscafo ok quindi mi date una mano aspetta 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 fermo un attimo aspetta arrivo porta la bottiglia in mare no cosa fa aiuto aiuto chi mi è esploso in faccia eh ma gli hai tratto il tappo per quello non lo sapevo io l'ho preso da lì voglio darti una masca scusi va benissimo stia tranquillo lei no non prendere il tempo per carità di dio che qua ok prendetelo su in due eh sì davi davi eh più o meno si riesce che si che rompe le balle aiuto non esco a salire di qua aspetta mi sta affascinando in acqua aiuto aiuto ok più o meno come si ha promesso aspetta che mollo ok proviamo così è troppo pesante ok ce la sto facendo ce la sto facendo no 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 salta 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 no sono in acqua mannaggia ok come si fa dai tira giusta leva ok allora dobbiamo provare con solo una mano sì ok aspetta una una l'ho preso aspetta che mi che prova e aspetta lo penso no tenete duro ma è impossibile questo da prendere allora ma ce la si fa in uno puoi prendere il piscione cioè il gabbiano aiuto 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 ma perché muore questo se gli va addosso non so va beh vai di là no così che mi stai lanciando giù aia faccia mi esplode allora con calma ragione e se lo facessimo rotolare ottima idea ma dove siete ah no ok è scappato in uno ma tipo se si prova in uno vediamo cosa fa aspetta ma è il casino no beh però l'ha preso con una sola mano dovrebbe prenderlo con due mani girati girati ah ma qua bisognava mettere il pesce dentro ma c'è il tempo ma c'è il tempo non lo so io l'ho preso da lì e l'ho riuscito sono ordinato io speravo si potesse afferrare anche un gabbiano purtroppo non si può è un peccato voglio portarmi un gabbiano sto cercando darti una mano ok ok è il casino metterlo qua però bisogna saltare salta 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 aia io sono morto oh ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta sei fatta ok vai adesso bisogna guidare aspetta aspetta che ci dobbiamo tenere ok ok attento ale no non tenete il tappo ok tenetemi al mio orecchio ok aia al naso al naso tieniti riesco a tenermi al bordo io mi sto tenendo a cosa esattamente a quale parte di indie ah no alla schiena ok è bellissimo sto gioco è fantastico si si ma avete valutato no puoi fare il salto del ponte come lo scariciamo c'è uno squalo non lo so però là c'è uno squalo e scaricarlo sarà dura più dura che caricarlo e bisogna andare qua al puntile e eh sarà un bel casino bisogna saltare ok eh bisognerà saltare fuori però adesso è un bel problema aspetta aspetta ok allora fatelo più verso la punta che è più vicina la punta no c'è il tappo aspetta occhio 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 ce la sto facendo vai 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 salta 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 yeah ci ho fatto grande aspetta no frena frenare aspetta aspetta se parte il tappo qua bisogna rifare tutto dai dai oh mi è fatta la mi è fatta eh ma questo cos'è no la punivia si può prendere ho bagato nell'albero non vedo più niente oh dio eh ma degli occhi erossi ma cos'è un raptor cos'è che è ah questo lo dobbiamo mettere lì ok ok vai oh dio aiuto no 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 dietro dietro vai 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 salta se lo potesse mettere piano oddio beh effettivamente ha ragione un'idea eccezionale chi è che ha ragione a essere abbastanza incavolato ah aspetta 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 che arrivo che devo provare aspetta fermare aspetta 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 le stai fermo ok prova aiuto sali su aia non ce la si fa oddio ma si vabbè ogni tanto quando salta schizza via no fermo ok proviamo allora vieni ok ok vai vai che sta prendendo vai 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 lasciale oh leee oh aspetta prendi questo oh leee posso vedere casa mia oddio è finito sopra lo stadio io lo so mi sto appendendo sono spiderman aia aia dai dai è giusto è giusto caricalo qui ok ok ah no si è scaricato ok no 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 va 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 iniziamo a portarlo dove dobbiamo consegnarlo poi ci giocheremo con il ma è che va va consegnato ma va anche tenuto fermo tra l'altro guida 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 ok ma dove è che va portato arrivo dov'è il cosino verde lo vedi tu vai 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 mi sono no ah la sopra no ma aspetta dove ah si qua sopra guarda dove c'è il cartello qua 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 ma come fai a me ah lo devi lanciare come proiettile eh si scusate ma sto cosa qua ma dove qua qua dietro dietro guarda dove sono io qua c'è sopra in alto un cartellone con appiccicata la la cassa no bisogna lanciare vabbè questo è impossibile come fai l'av� esatto bisogna è più o meno così è già allineato solo che bisogna avvicinarsi no bisogna metterla giù ok bisogna togliersi dalla strada sicuramente secondo me bisogna mettersi un po più sotto perché secondo me si è bagato dentro al motorino aspetta che prenderà indietro perché sta arrivando anche un po più avanti aspetta aspetta che va allineato così ok è però un bel casino aspetta pronto fallo messi aspetta come se si attiva una mano lo attivi e con l'altra aspetta ah ok ok è sì da usare il pad perché con la tastiera di merda aspetta ahia aspetta però ho messo la massima oh oddio è stato meglio che ho visto schizzare via ma non è stato bellissimo neanche a rifavarci no 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 oddio è stato bellissimo oh oddio è stata centrale oh oddio ce l'ho fatta ciao ragazzi Poi andare vicino, Ale? Ok, ma... Oddio. Va veramente allucinante sto giorno. Che è successo? Ho premuto una leva. Ah, qua è la partita! No, si può fare la partita, c'è la palla! No, è veramente come Rocket League. Come hai fatto a prenderla? È Rocket League! Ahia. No, sto gioco è stupendo. Non... Ti prendo, amore! Prendi la macchina. Vai, attaccati tutti e due, vai. No, attaccati, attaccati, vai. È stato bellissimo. Vai, vai, prendi la palla. Ho tirato una leva! No, 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 riuscirò a fare gol. Ah, ma questa non... Ah, no, è quella in gioco, ok? Quella lì è... Ti sono spiantato. Guido a te, per favore. No, 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 non così! Ahia! Eh, qua... Sì, ma qua è impossibile riuscire a fare gol. Attenzione! Attenzione! Attenzione, come al solito! Come da copione! Vai, 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 che va! Nooo! Arrivo! Sì, no, ma dove è andata? Dove è andata? Ma io sono il pubblico! Vai! Ma le tette! C'eri quasi, è facile. E segna anche il punteggio. Segna anche il punteggio. No, ma l'ho mancato. No, ma l'ho mancato. L'avevo preso sullo store di PS4, PS Now. Ah, no, no, ok. Sì, sì. Non per PC. No, no, per PC. E lo dovrei prendere. Ahia! Ma perché cadiamo dal cielo, no? No, vi prego, provate a fare un gol. Aspettate, prendi una macchina. Dov'è? Dai, no! Io sono il pubblico! Sono il pubblico! Aspetta, aspetta, provate a fare un gol. Ok. Allora, vediamo. Vai, vai! Sì, è difficilissimo. Vabbè, aspetta. No, è veramente difficile dire. È veramente altro che la Rocket League. Se riesci con questa... Sì, sei un campione con questa. Vai, 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 vai! No, sì! Sì, si esplode! Aiuto! Aiuto! No, vabbè, vabbè. E infatti sei neanche 1-0. No, vabbè, basta andare dietro il tabellone, c'è una leva. La tiri e parte la partita. È bellissimo. Guarda dietro il tabellone. Ma hai dietro il tabellone? No, aspetta! Aspetta, aspetta. Ah, sì, è vero, c'è la leva lì, è vero. Ma cos'è quel mio edificio che si vede là lontano? Ma c'è un pubblico!